Buonasera. Vorrei un cachet. Per la mamma? Sì, no, 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 è per me. Tenga. Forse è meglio che me ne dia un altro. Lei che ne dice? Beh, dipende da che cos'ha. Che cos'ha? Mi fa male la testa. Ne prende due. Grazie. Vuol prenderli qui? Mamma mia, che paura, signora, me lo vedo davanti agli occhi, quel brigante. Hai visto in che direzione sono andati? Non lo so, verso la montagna, tutte e tre. Tutte e tre? Come tutte e tre? Chi erano tutte e tre? Sì, lo padrone, lo brigante, lo sommaro.